Guerrito che adesso faccio entrare i ragazzi e ne parliamo Se riescono A entrare Allora, ste dentro Sta connettendo l'audio Nico Ciao ragazzo, ce l'ho fatta, mi sentite? Sì Ok Nico, ste sta arrivando credo Ok, dovrei essere Ok, allora adesso faccio una cosa orribile Ovvero Vi dovete assorbire sta cosa Ve lo dico, ce l'ho con quelli che stanno Guardando la live ed è tutta colpa Loro Ecco fatto Allora, l'altro programma era figo Perché se qualcuno Dalla chat voleva entrare e dire qualcosa Potevano entrare e parlarvi Capito? Era ganz Era ganz Colpa è mia Che con voi nel 2020 Penso ancora di poter utilizzare la tecnologia La colpa è quella di essere Da me andava tutto Parla a seconda Allora la rifacciamo Tra l'altro ragazzi ve lo dico C'è già Della guerriglia Nella chat Cioè c'è già Chi è armato Perché C'è un ragazzo In chat Che è da un po' Che frequenta La live Che Ha appena scritto Bel titolo Argumentiamo Di come ho sviluppato La passione per il crossfit Dopo cinque mesi mi chiudo nella palestra Allora Allora Perché chiaramente Garage gym Chiaramente per toccarla Piano Il titolo della live L'ho messo Non provocatorio Abbastanza tranquillo E ho scritto Ma com'è che A me mi avete dato il link Subitato dentro Ma Il titolo della live è Lo sport Non è un bene primario Punto di domanda E segue Chiaramente ho scritto Con ste e nico E segue in realtà Una La falsariga Di una live Che era improvvisata Esattamente come questa qua Che abbiamo fatto venerdì Con un ragazzo A proposito del cinema E il titolo Della 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 live era appunto Il cinema non è un bene primario Che era Una Provocazione Una discussione Nata dopo questo concetto Di bene primario Che ha un po' Introdotto il nostro Premier Conte Durante L'enunciazione Di sti Di PCM Allora Innanzitutto Prima di iniziare Voglio fare una cosa veloce Allora Direi che per questa live Indosso una maglietta particolare E ste Sarà già lì Che fa Tic Lo vedo no? Perché ste pensa A questa maglia E invece? Che è quella Chiaramente Di PT Pro Il link c'è Dentro la chat Lo vedete E invece indosso questa Cosa c'è scritto? Vabbè niente Tutta roba dedicata Alle tartarughe ninja Best in town Perché è legata alla pizza E questo per evidenziare Quei due ragazzi Che abbiamo qua Oggi ospiti Sono non solo Due professionisti Ma anche due grandi amici Questo anche per evidenziare Chiaramente il tono Che ci sarà stasera Perché vuole essere Una chiacchierata Mico se vuoi prendo la maglia Del tuo dio celibato Eh se vuoi Fa quella magari Possiamo anche Ripetere un'altra volta Quella magari Possiamo anche girare Un'altra volta No vabbè Il tono vuole essere Completamente informale Il nuovo standard Delle live qua È una prima parte Di chiacchiericcio E poi la parte Di gioco collettivo E a parte di chiacchiericcio Oggi ho invitato Sti due ragazzoni Per parlare Di ste misure Di sto casino Che sta succedendo Dello sport Nel 2020 Nel novembre del 2020 Che è sicuramente Un argomento Un argomento delicato Io con loro Tra l'altro Sto singolarmente Li sto aiutando Per quanto riguarda Le Le loro figure professionali Quello che fanno Professionalmente Loro due Cercando di digitalizzare Un po' Il loro flusso di lavoro Per quel che si può Più o meno Perché non è banale No? Cosa dite? Soprattutto in questo periodo Dove magari Non possiamo sempre O in questo caso Nelle ultime settimane Non siamo mai stati Sotto il solito Detto Finché siamo in presenza È tutto un pochino Più facile Fatto così a distanza Sicuramente E soprattutto Se il nostro punto forte Era proprio stare In presenza Del cliente Lavorare Con la massima Qualità possibile Gestire la distanza È un po' più complesso Certo Certo Vabbè Allora Torniamo Andiamo subito sul topic Parliamo di Sto cacchio Di Di dpcn Di queste regole Che sono Particolari Strane Uniche Unica è un aggettivo Che è sicuramente Corretto Nel senso che Ogni volta che esce un decreto È sicuramente Un qualcosa di Unico e di nuovo E perché la situazione È sicuramente Unica e nuova A me è piaciuto Cioè Facciate una domanda Stasera dovevi parlare Lo dico perché sono arrivato a casa No Parlerà Entro la settimana Sicuramente Ha parlato oggi Alla camera In senato E ha sostanzialmente Detto quello che ci aspettiamo Tutti Ovvero Che ci sarà Entro breve Un altro Dpcn Non si sa se domani O dopodomani Comunque Facevano La cifra Del numero Del 4 Diciamo Come data Quindi ci sta Che tra il 2 e il 4 Rissalti fuori qualcosa E probabilmente Sarà un inasprimento Di quello che abbiamo Attuale Diciamo Con Con molta probabilità È quello E E niente Praticamente Queste regole Sono Sono particolari Sono legate A una situazione Particolare E negli ultimi decreti Si è iniziato A parlare Di beni primari Ovvero Di tutto ciò Che è primario Fare per le persone E di questo concetto Di salvare il Natale Quasi fosse Sembra Il film Quello con Arthur Schwarzenegger Molto romantico Sì Quello con 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 Come si chiama Turboman Che deve salvare Il regalo di Natale No uguale No siamo Ci abbiamo I dpcm Per salvare il Natale E insomma Hanno Hanno introdotto Sto concetto Di beni primari E tra i beni primari A quanto pare Il grinch Al quanto pare Tra i beni primari Non c'è lo sport Perché tra le prime cose Che sono state chiuse Le palestre E qualsiasi centro A cui è grado Bisogna fare sport A livello amatoriale Ma questo è un discorso Che ci arriviamo tra un pochino E quindi voi L'avete preso In quel posto Sì Secondo me Il termine sport Andremo Contestualizzato Nel senso che Se te mi dici La partita È un surplus L'allenamento È un surplus Non è un bene primario Sì Se ne può parlare Però Quando invece si parla Di movimento Come salute Che secondo me Non si può classificare Come sport Dovrebbe essere trattato In maniera diversa Però Io Tanto sono sempre Dell'idea Che Per noi Sia troppo facile Criticare Perché non sappiamo Cosa c'è dietro davvero E non abbiamo Dei termini paragone Quindi non è che In passato È stato fatto diverso Sappiamo che è andata così Allora facciamo diversamente Come detto te È tutto unico Sicuramente Dalla mia Che Dalla nostra Che alla fine Noi abbiamo Un centro Dove Con i vari di PCM Che si sono susseguiti Nel tempo Abbiamo fatto Un investimento Discreto Su un macchinario Per la sanificazione Io Per quanto riguarda La parte di movimento Ho distanziato Le lezioni Tutte di un quarto d'ora Perché le persone Non si incontrino Limitato Di spogliatoi Limitato Le persone insieme Dentro al centro Perché io devo chiudere Come una palestra Che magari affluenza Di 4-500 persone al giorno Tra l'altro Noi non siamo palestra Però si parla Di attività motoria Chiuso E quindi Questo è un po' Il mio quadro generale Riassunto E Nico Cosa ne pensi? Allora Penso che in realtà Un precedente Ce l'abbiamo avuto Che è stato Il primo lockdown E quindi Qualcosa Avrebbero dovuto Aspettarsi O meglio Organizzarsi Però ovviamente Noi siamo sempre di qua Ed è più facile Parlare Che prendere Che prendere Decisioni Per quanto mi riguarda Essendo un personale Sanitario Mi è andata Un po' meglio Nel senso che Al momento Sono C'è la possibilità Di lavorare Per quanto riguarda La fisioterapia E Essendo fondamentalmente Questa figura All'interno Del nostro centro Tutela Anche A quanto pare L'esercizio Del trainer Il discorso è che Il nostro flusso di lavoro Che magari Perché non ci conosce Non sa bene com'è Noi abbiamo la possibilità Di lavorare Sia Con stanze Ambulatorio Sia con open space Per tutto quello che riguarda La salute attraverso il movimento E anche Altre professionisti Sanitari e non Come nutrizionista Podologo Dietista Terapista Neuropsicomotricità Quindi tutto quello che in realtà Riguarda L'ambito salute Nel nostro centro Potrebbe Potrebbe Essere effettuato Uno Per La mole di persone Che entrano Di volta in volta E due Per come ha detto Stefano Per tutto quello che noi abbiamo organizzato Per evitare Abbiamo ingressi separati Abbiamo un open space Che permette Di tenere distanze I famosi due metri Tra una persona E l'altra L'unica cosa Che Essendo noi Una forma di lavoro Un po' strana Un ibrido Che ancora non è ben inquadrato Abbiamo preferito Comunque Tenersi A tenerci al decreto E magari cercare Altre soluzioni Questa cosa La dico Anche in virtù Di altri professionisti Che magari Nel corso del tempo Abbiamo conosciuto Che Un po' più in difficoltà di noi Perché magari hanno palestre O hanno centri Hanno fatto investimenti importanti Si trovano In una situazione Forse peggiore della nostra Quello che Secondo me dovremmo fare Come professionisti Noi Cercare una soluzione Tutti insieme Per quello Che riguarda noi Cioè fondamentalmente Mi diceva Stefano Prima Non è che noi possiamo Decidere per le persone Che stanno ai vertici Però quello che possiamo Decidere per noi È organizzarci In maniera diversa Vedi quello che hai detto Tu prima dell'online Vedi Di trovare Magari la tutela Il terapista Per poter far lavorare Il trainer Vedi la tutela Del sanitario Fondamentalmente Per far vedere Che sono rispettate Certe regole Poi Noi lavoriamo Con i bambini Quindi noi abbiamo Sempre avuto Un occhio di riguardo E sempre lo avremo Per determinante circostanze Quindi noi appena possiamo Appena abbiamo Un margine Di lavoro Ok Noi Lo facciamo Però è vero Che Dal mio punto di vista Il precedente c'era Qualcosa in più Si doveva fare Ok Scusami Nico Scusami Perché sembra una banalità Però è Agli occhi di tutti No 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 Non è banale No no nel senso Che chiudi una palestra O un centro Quello che per te È un'aggregazione Poi i mezzi di trasporto Non sono organizzati I mezzi pubblici di trasporto Non sono organizzati O mi metti un numero Di sei persone Per mangiare insieme Cioè secondo L'opinione mia Di tante altre persone Con cui mi sono confrontato Si è provato A tirare un po' nel mezzo E vedere se qualcosa succedeva Perché probabilmente Con altre infrastrutture Non si era pronti A fare niente di diverso E quello secondo me Il grosso problema Che non eravamo pronti A fare qualcosa di diverso Sì E tra l'altro Ottieni del Del consenso Anche dalla chat Dove ci sono Dei ragazzi Dei ragazze Che si stanno lamentando Di argomenti diversi Uno tra i quali È uno dei punti Dove volevo arrivare Che è quello Dei corsi individuali Ma ci arriviamo Io mi trovo d'accordo E anzi Più che mi trovo d'accordo Mi trovo Onestamente convinto Che Voi E con voi Non intendo solo voi due Ma i professionisti Che lavorano in questo ambito Abbiano questo Tipologia di impugnione Perché è normale Secondo me È normale Che attualmente Le Attività Che vengono penalizzate Si lamentino Perché ci sono Delle attività Dall'altra parte Che invece Non vengono per niente penalizzate O stanno continuando a fare La soluzione del semi lockdown È un po' complessa Come situazione da proporre Perché Perché Comunque Il semi lockdown Taglia da una parte E mette da quell'altra E poi È normale a questo punto Porsi le domande Del tipo Ok va bene Quindi il criterio Per cui hai aperto delle cose E altre no È Questa definizione Di bene primario Che hai dato Ok E allora quindi Spiegatemi L'uni euro È un bene primario E la palestra no Perché Se abbiamo passato l'estate A farci fare Attività sportiva Aperta o chiuso che sia Per stimolare Il sistema immunitario Perché adesso Non lo è più Perché viene indicato Come luogo di aggregazione Mentre invece L'uni euro no Perché dici L'uni euro In linea di massima Non ci si corre dietro E questo siamo d'accordo Non ci si Non ci si alita nel viso È regolabile l'ingresso Siamo d'accordo Però Secondo me Per quanto riguarda Questa tipologia di Di polemica Tra virgolette Che poi Tra virgolette è un cazzo È polemica Per questa tipologia di polemica Ehm Ci si può sempre ridurre Secondo me Al discorso A cui ci si ridurrà Finché questa pandemia Non finirà Ovvero L'errore del governo È stato affidarsi Al buon senso Delle persone Fin dall'inizio Fin dall'inizio E forse la fai Anche perché Non hai modo Di Perché se tu Avessi fatto I controlli a tappeto L'ultimo dpcm Prima che poi Dessere la chiusura Diceva che Per l'area Insomma per il movimento Per la palestra L'attività Ci voleva una persona In 5 metri quadri La nostra parte Era tecnico Se è bene Ma la nostra parte Di movimento È 70 metri Cioè io volendoli dentro Potevo metterci 14 persone Quando ne facevo Al massimo 5 Se te fai Dei controlli Puoi far chiudere Chi davvero È Un posto A rischio Contagio Alto E far lavorare Chi no Però probabilmente Ti affidi al buon senso Delle persone Perché non hai mezzi Per fare questi controlli Immagino io Poi tanto sono sempre Chiacchiere Tra di noi Però Sì Sì no Sono d'accordo È inutile Cioè a questo punto È un po' Un punto che secondo me Rimane senza Abbastanza senza Via di scita Perché attualmente Presentarsi con una cosa Del genere Lascia sbigottiti Perché comunque Uno ha investito D'estate Inutile Quest'estate Tutti hanno investito Voi lo sapete Perché voi avete investito In questo senso Eppure Eppure Vi sono venuti contro Vi sono venuti contro E Secondo me Viene Viene Abbastanza a galla Quella che è La questione Legata al Problem solving Di Di Della classe governativa Attuale E non è semplicemente Una questione di conte O non conte Perché non sono state proposte Soluzioni migliori O Più ottimali In merito Anche nel vociare Televisivo O Radiofonico Non c'è Una soluzione Secondo me Che attualmente È stata proposta Migliore di questa Perché comunque Spoiler Là fuori Il covid Continua ad esserci E Inizierà a fare male E questo lo sappiamo tutti Se siamo onesti Intellettualmente Tutti sappiamo Che là fuori c'è Tutti sappiamo Che sta per fare male E sta per fare più male Di ora E questo è un dato di fatto Perché aumenterà La La virulenza Del No Cosa sto dicendo La potenza Del virus In generale Perché con l'aumento Chiaramente Delle influenze È una cosa che Che aumenta E E quindi ecco Quello che voglio dirvi A voi è Preso atto Che su questa cosa Si può fare ben poco No? Però aspetta Prima di farti Fare uno switch Se puoi fare uno switch Ora prima Nico parlava Di altri colleghi Che hanno fatto investimenti E che magari sono messi Peggio di noi Nel pratico Nel quotidiano A me quello che fa paura Non è soltanto Magari quello che può essere Interpretato come Non bene primario Da Conte O comunque Nel senso Conte Parla di tutta voce Prova tutta la situazione Abbiamo letto un post Ieri Non mi ricordo Quando Di un nostro collega Su Adalbenga Che ha fatto Un investimento E un po' Per aprire una palestra Quest'estate praticamente Le cose stanno andando Alla grande Lui è fortissimo Loro devono chiudere Perché loro sono palestra Un cliente gli ha messo a disposizione Un prato enorme In realtà Vicino a un condominio Dove tutte Distanze non rispettate Di più Alla perno Mascherino Esatto Ognuno con i suoi attrezzi Che alla fine elezioni Sanifica Eppure Più condomini Hanno chiamato i carabinieri Più condomini Hanno avvertito Frustrazione Sì però Forse il rischio È di far passare davvero Come una cosa malata Invece Quello di allenarsi E fare attività Nonostante Sei in strassicurezza Quando davvero Il senso Potrebbe essere Una delle risposte primarie A una pandemia Del genere Sì La ele tra l'altro Dice che Vedi questa è un po' Una risposta A una frase Che aveva messo Prima in chat La ele Dove ha scritto Che all'aperto Gli sport di contatto Non di contatto Si possono fare È vero Però poi capitano Situazioni come quella Che appena descritto Stè Dove la gente frustrata Continua a dire Giustamente Sottolinea che È anche È difficile anche valutare Cosa sia meglio E qualcuno di scontento Ci sarà sempre Risultato però È Un discorso che Abbiamo già fatto Probabilmente Nella prima live Che ho fatto con voi Ovvero che Probabilmente Lo sport Attualmente Viene definito Solo dall'elite E questo Purtroppo È una deriva Che Secondo me Sta prendendo Perché se ci pensate Adesso lo sport Lo possono fare Solo i professionisti Quindi lo può fare Solo la serie A È questo il punto Il problema è che Il problema è che Il calcio Non è Cristiano Ronaldo Il calcio sono Milioni e milioni Di pulcini Che giocano in giro Per tutta Italia Per tutta Europa Che attualmente Non possono fare sport Il problema Il problema Non è Cosa ne so Per citare Lo sport della Ele Alexander Giorgio Gugulese Che Si allena male Perché alcune palestre Sono chiuse Il problema è La My Rhythm Che attualmente Non ha Non ha un posto Dove potersi allenare Che non sia Lo zoom nostro In cui stiamo facendo La chiamata Tra l'altro Che abbiamo E che abbiamo preso In prestito Perché siamo Perché non si allenano In questo momento È questo il problema Hanno fatto una confidenza Con i presidenti Delle varie associazioni ASI, AXI, AXI Dove appunto Guardavamo la cosa Cosa si può E cosa non si può Per le piccole società Eh sì Perché quello è un punto Perché a questo punto Perché Cioè È questa la cosa Mi fa venire rabbia Perché Secondo me Non sono stati ascoltati tutti Perché non è possibile Che non sia stata prevista Questa reazione a catena Perché adesso Il CONI sostanzialmente Dice ok Io I miei atleti Li faccio allenare Voi fate il cazzo Che volete Eh Cioè Voi Buono Cioè Arrivederci e grazie Però il problema è che In Italia Non c'è solo il CONI Anzi Perché il CONI costa Costa tantissimo E te sti lo sappiamo Per la questione del 3 contro 3 Quanto è complesso Affigliarsi CONI Abbiamo fatto un anno E obiettivamente È difficile Perché giustamente Ha dei costi molto alti Eh Però Però è un casino E così anche Anche voi Cioè non è pensabile Che voi riusciate a lavorare Solo con chi Ha Ha nella vostra figura Il famoso bene primario Di cui stiamo parlando Cioè perché a questo punto Io interpreto bene primario Cosa vuol dire Vuol dire gente Che ha bisogno del fisioterapista O del trainer Per camminare Questo è il punto O perché O perché fa del movimento Il suo lavoro Quindi l'atleta professionista Perché con loro potreste lavorare Io quello che diceva Nico Del fatto della tutela Amari per il trainer Nel centro fisioterapico Alla fine Nel centro fisioterapico privato È il fatto che io Venuto fuori sul sito del governo Non c'era ben scritto chiaro Il certificato Io lo sto facendo far fare Per avere una sicurezza maggiore Però io sto lavorando Privatamente Sotto certificato medico Quindi sotto prescrizione medica Prescrizione medica In realtà Non è per forza Che se non fai movimento Non cammini È salute e prevenzione Però io ho diverse persone Che comunque Si approcciano a noi centro E non a una palestra Perché hanno avuto problemi In passato E sono persone che hanno problemi Senza allenano Quindi Sì Quello sì E Vabbè E quindi Tanto Sottoscritto Questo casino Mi viene Mi viene naturale Fare Fare una domanda Ora quindi Che famo Cioè Qual è la cosa migliore da fare? Nel frattempo È arrivato È arrivato un messaggio Dalla chat Da una persona Che conosco bene Perché pensa di fare Il finto Nascosto Sotto il Nickname Just bus 05 Ma io so Che la domanda Ma io chiedo La serie A Oltre a fare allenamenti in campo Non si allena in palestra È stata fatta da Lorenzo Carotenuto E la risposta E la risposta Allora comunque è sì La risposta è sì È sì E infatti In teoria Ste Se fosse Il personal trainer Di Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo Non penso abbiamo Personal trainer Però Sì Ne ha più di una E probabilmente Abitano in casa con lui Però Il trainer della Juventus Lavora Però hanno le palestre loro È quello il punto Cioè hanno le palestre loro Al palazzo Nel discorso Nelle fac Del governo C'era scritto Che Professionisti O qualche Squadra Affiliata comunque Coni Che abbia un torneo Può Allenarsi In vista della partita Il torneo Quello che è Il problema cos'è Che E comunque Devono rispettare Delle norme Per cui Anche il discorso palestra Per i professionisti Dovrebbe essere legato Allo spazio Ed è un tutto Non dovrebbe Perché Comunque Sappiamo benissimo Che è difficile Gestire Intanto i calciatori Se parliamo di calciatori Ma è difficile gestire Una squadra Che magari Conta 20 persone In un allenamento Dove servono Spazi E tempi Così Diluiti Ok Non posso fare nomi Ma io ho Un paziente Che è un preparatore Di una squadra professionista Che mi ha detto Che loro non riescono A far rispettare le regole Se non riuscirebbero Ad allenarsi Quindi È molto difficile Anche per loro Volendo farlo Riuscire a farlo Quello che però Succede È che Negli sport singoli C'è Molta più facilità Anche se c'è Un team dietro Faccio l'esempio Di Cecchinato Che ho sentito Di recente Cecch Sta comunque Allenandosi Con un team Di nostri amici Fondamentalmente Mia e di Stefano Io mi tengo In contatto Con loro a distanza Però per loro È nettamente più facile Tranne Quando Negli eventi Devono essere gestite Persone che devono entrare In base Alla qualifica Quindi non è detto Nemmeno che il trainer Di Cecch Il nostro amico Amato Pinduccio Max Possa essere sempre Con lui Per questi motivi Però resta il fatto Che Come tutti sappiamo Più lo sport Fa girare soldi Più è legato All'economia E quindi Più è probabile Che cerchino Di mandarlo avanti Perché purtroppo Interesse razionale Esatto Purtroppo Quello diventa Il bene privato Per far girare Più soldi Per l'economia Cioè Probabilmente È vista così Ma sono d'accordo Con te Nico Che c'è tutta La fetta Di popolazione Che avrebbe bisogno Di fare È una comparsa È comparsa Che avrebbe bisogno Di fare Del movimento E E deve improvvisarsi Perché il grosso problema Adesso è quello È l'improvvisazione Delle persone Per fare qualcosa Anche solo Per sfogarsi E Allora Aspetta Diamo un attimo Una risposta A Lollo E c'è anche La Ele qua Che vi sta sentendo Perché voleva dire Una roba Perché io Di là sono indifferita Non so se mi sentite Sì ti sento Ti sentiamo indifferita Però Allora Cazzo No Praticamente Noi abbiamo dovuto Fare Un'altra conferenza Con Quelli delle Varie associazioni Contestualizzo Per tutti Quelli della chat La Ele Allena Ginnastica Ritmica In una scuola Che è relativamente Piccola E quindi si occupa Anche di cose Dirigenziali Siccome noi siamo In una ASD In una società Direttantistica Abbiamo fatto Sta conferenza Con i vari Presidenti Di ASI AXI ICS Perché comunque Questi enti Sono anche Riconosciuti Dal CONI Quindi In realtà Loro dicevano Per un Per la preparazione Di una gara nazionale Anche di un Ente riconosciuto CONI Te potresti Allenarti Anche al chiuso Perché il nostro Non è uno sport Di contatto L'unica cosa È che dovresti Avere una palestra Di proprietà Oppure messa A disposizione Da Per esempio Quelle della scuola Volendo se una scuola Te la vuole dare Te la può dare Per esempio La motto viareggio Che non facciamo pubblicità Ma ha fatto Le nazionali ieri Loro si stanno Continuando ad allenare Perché hanno Dovuto chiedere Al sindaco E ai vari Presidenti CONI Bla 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 La dispensa Per potersi allenare Per prepararsi A le gare nazionali Quindi volendo Uno Potrebbe farlo Tipo se te Devi preparare un match Nazionale Nico Ti può allenare E infatti Era una delle A caso No no Perché infatti Era una delle questioni Di cui stavamo parlando Col maestro Non più tardi Di due settimane fa Esattamente di questa cosa qua Di che cosa volesse dire Portata nazionale E infatti rispondo anche A Lollo No La risposta Ti salutano dalla chat Mi sono messa La maglietta buona Non sono nelle condizioni Di oggi pomeriggio Perché oggi Ho fatto un gruppo Per le live Che è diverso Da quello che conoscete voi Per il podcast Estivo Poi se mai vi ci invito Adesso Stiamo mandando Gli aggiornamenti Su come stanno andando I dpcm Ed è argomento Di discussione acceso E quindi è per questo Che sto cercando Di organizzare Sempre questo tipo di live qua Perché magari è interessante La prossima te lo dico già La fai con Moretti E con Giuga E parli Sì Io vorrei chiamare Io vorrei chiamare Il Cagio Io mi tolgo queste cuffie Che mi hanno fastidissimo Torno a vedermi in differita Addio Io volevo chiamare Il Cagio E E E Il Press Per la prossima Sicuramente Per Per parlare di sta roba E Comunque Per quanto riguarda La risposta La domanda di Lollo La risposta è No Perché lui dice E che è sostanzialmente La questione principale Lui chiede Lui qui Dico Se io mi considerassi Un atleta a livello nazionale Di beach Non posso andare in palestra Se non io Almeno la Sara Contestualizzo Per Contestualizzo Per Per tutti Lorenzo È un ragazzo Che quest'anno Ha Ha avuto accesso Al Main draw Della finale Del campione italiano Di beach volley Sara È la sua ragazza Ed è un atleta Di taratura nazionale Stiamo parlando di una delle prime dieci Credo Del Del ranking Italiano Femminile Al momento E La risposta è No Perché Abbiamo fatto Il Torneo IBVC Stiamo andando Un po' troppo Nel dettaglio Poi sarebbe interessante Fare una live Credo Con Egio E magari qualche altro Personaggio del mondo Del beach volley Per raccontare un po' Il mondo del beach volley E quello che sta passando Sinceramente Però no Perché Il discorso è che Sostanzialmente Devi essere un atleta Che compete A livello nazionale E internazionale Io Quindi credo Che per il beach volley In palestra Ci possano andare Praticamente Solo Ci possano andare Solo Nicolai Lupo Cottafava E I ragazzi Della nazionale Che quindi Si allenano Al centro tecnico Nazionale A Roma Ma allora L'evento ce l'hanno Per forza Ma c'è l'orimpiade Nel 2021 Vabbè ok Giustamente Lei dice Se c'è un evento Nel breve Però Il coni Come la FIPA Va dimostrato Che nel breve Se non ventano Perché Attualmente Perché Cioè Non voglio fare Il complottista Però Questa cosa La Sara Lo sa perché Ne abbiamo parlato Cos'è successo È successo Che due giorni Prima del DPCM La FIPA Ha organizzato Un torneo Di beach volley In un posto Assurdo Tipo Padova Quando sa Perfettamente Che la gente Non ci si iscrive Perché non si sta Allenando Dopo due giorni È uscito il DPCM E questo regolamento Per cui Se tu Ti sta Dimostri Di esserti A preparare Per un torneo Ti puoi andare Ad allenare Cioè Poi uno Non fa il complottista Però allora Vuol dire Che la gente Lo sapeva Cioè vuol dire Che c'erano degli enti Che questa cosa La sapevano Da prima No E allora Però mi viene da dire Mi viene da dire Ma di che cazzo Stiamo parlando Cioè Mi venite a fare Un discorso Legato ai principi Legato a Bene primario Bene secondario Sto cazzo E poi E poi Scopo stia Crecchi qui Vai vai Susi Fai pure la domanda Perché tra l'altro C'è una ragazza Che sta scrivendo In chat Che ci ha chiesto Prima Ha detto Ma gli sport individuali Tipo la pole dance Perché lei fa pole dance Li potevano lasciare Aperti Però il punto È esattamente quello Cioè È che Stanno Ghettizzando lo sport A chi Ci guadagna Sostanzialmente Basta Io dico due cose Prima che arrivi la domanda La prima cosa Lollo Noi ti consideriamo Di interesse nazionale Anche internazionale direi No la seconda cosa Io parlavo con mio abbo Ho giocato tennis Un paio di volte La settimana scorsa Che è rimasta Una delle poche cose Che si possono fare In realtà Sabato Sabato Ma è ufficiale Ma non so A me mi ha detto Sabato paddle Comunque All'aperto Si può giocare Infatti mi sono trovato Alle nove e mezza La sera all'aperto Auguri Ma chi si può giocare Solo se hai la tessera agonistica E ti dirai Ah quindi solo chi si No Se te paghi 32 euro Penso con il certificato La visita medica Te hai la tessera agonistica E te puoi giocare anche al chiuso E quindi c'è una corsa A questa tessera Che senso ha Mio abbo Che ce l'ha Che ce l'ha da anni Fa cos'è Questa qua mi fa da scudo E non piglio il covid Io Mentre te che non ce l'hai Lo pigli E lì di nuovo Il discorso di volerci Probabilmente mangiare sopra Un pochino Via No Secondo me Sono tutti gli Come si dice Fatta la legge Trovato l'inganno Cioè appena te Lanci qualcosa Un'attività per rimanere aperta Trova le soluzioni All'italiana Perché tanto si parla sempre Soluzione italiana Perché potevamo fare Anche noi 100 giorni in casa Tutti i bardati E basta Invece noi Siamo italiani Dobbiamo fare Giustamente Il popolo Secondo la nostra tradizione E quindi Lo succede Che fatto Il decreto Si deve correre subito A ripari Per vari motivi Perché comunque Le associazioni Devono incassare Perché comunque Le federazioni Devono incassare E in realtà Più che bene primario Diciamo che Il bene primario È sempre Un argomento Molto Naif Se ci pensiamo Perché tanto Comanda sempre Pecunia Fondamentalmente Perché è quello Che manda avanti Si capisce adesso Che manda avanti Non l'aspetto sanitario L'Italia Ma lo manda avanti L'aspetto economico Come tutte le nazioni Perché tanto Gli scienziati Arrivano a un certo punto E dicono Noi possiamo darvi Fino qua Le responsabilità Le decisioni Prendono i politici Che però Non riescono a mettere insieme I due fattori Quindi si sta facendo Una scelta E dal mio punto di vista Darci nel mezzo In questa situazione È un errore clamoroso Perché non fermi niente E rompi qualcosa Non rompi tutto Ma rompi qualcosa Senza fermare niente Sono d'accordo Sono d'accordo E Tra l'altro Lollo Chiaramente Terminator Si autoproclama Ma La domanda In realtà Che arriva dalla chat Secondo me È proprio Abbastanza Diciamo Esplicativa Di quello Che stiamo cercando Di dire Cioè Dicono Con il dpcm Tutti quelli Che dovranno uscire Una persona normale Quando potrà Più o meno Tornare ad allenarsi Cioè io vi porto La mia situazione Io il palo in casa Non ce l'ho Chiaro Cioè a me Ero a perdere I progressi che ho fatto E tornare a rifarmi I lividi da capo Lo so che è una cosa scema Non è così tanto scema Ma a lungo periodo di fermo Io l'accuso Ma è normale È esattamente quello che ti dico Cioè alla fine Stiamo parlando E siamo tutti d'età Più o meno Più o meno Siamo lì Alla nostra età Quando inizi a fare uno sport A meno che non sei La bestia Con la felpa rossa Sotto lì Che Si mette Non potrebbe prendere un pugno Ma se lo dà Gli altri vanno giù Ehm Lo fai per diletto Lo fai per divertimento Lo fai per passione Chiaramente È giusto prenderlo con Anche lo spirito agonistico Volendo Però Soffriamo Mi sto dando del vecchio Frank Ehm Però lo stiamo Lo facciamo Principalmente per quello E se ci fermiamo Visto che 8 ore al giorno Mediamente facciamo altro Che non è divertirsi O fare cose Anche relativamente Ehm Simili Al movimento Che facciamo durante lo sport Capita quello che Quello che è appena evidenziato E secondo me La soluzione Ecco l'aggancio incredibile Per la marchetta È seguire i due ragazzi Qua di fianco Ormai sono Radiofonico È seguire i due ragazzi Qua di fianco E le soluzioni Che propongono In un tempo come questo Se volete seguirli La pagina Facebook L'avete appena vista passare Per quanto riguarda Pt Pro Se no Stefano Malcontenti Personal Trainer Non so indicare Stefano Malcontenti Personal Trainer Nicola Santobianchi Fisioterapista Eccolo qua Li seguite su Facebook Li seguite su Instagram E hanno una serie di proposte Possiamo definirle così Ehm Per digitalizzare Il programma d'allenamento O comunque per provare a digitalizzare Il programma per stare meglio Questo si Ehm Ad esempio Nick posso rispondere Alla ragazza Prima questa con la ragazza Che fa pole dance Che ha fatto la domanda Vai 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 Secondo me c'è Un bias importante Cioè c'è un pregiudizio Legato al Se noi facciamo uno sport Dobbiamo per forza Continuare a fare quello Ora È vero Che ognuno ha i gusti personali È giusto Che impieghi le sue energie Nel fare quello che vuole Però se parliamo di salute Quindi un obiettivo più largo Rispetto allo sport specifico Ci sono tantissime altre soluzioni Per rimanere in salute Per abbassare le soglie Di stress negativi Ora al di là che ci abbia fatto La pubblicità Nico A noi in questo momento Però secondo me La soluzione migliore Che noi abbiamo In questo momento È allargare I nostri orizzonti motori Quindi andare anche incontro A qualcosa Che magari noi Facciamo male Facciamo poco Se non possiamo fare Se non possiamo fare Nostra attività Ora tu Il discorso della Muay Thai Che tiravamo fuori prima Con il maestro Ho fatto un percorso pazzo Da quando abbiamo riaperto Fino a un mese fa E potenzialmente ho buttato tutto via Stando un mese fermo Ecco Stando un mese fermo Sì Avrei buttato tutto via Come qualsiasi altra persona Perché a livello fisiologico Dopo un mese Le nostre capacità Iniziano già a scendere Ma fare qualcos'altro Permette al nostro corpo In qualche modo Di rimanere in salute E soprattutto In maniera trasversale Cosa vuol dire Coltivare altre cose È come pulire Il nostro sistema E renderlo Più capiente dopo Sicuramente Stefano Lo può spiegare meglio Per i suoi atleti di basket Lo può spiegare meglio Per i ragazzi di enduro O di downhill Comunque Noi abbiamo sempre visto Che nel tempo Una soluzione Attraverso movimento C'è sempre 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 E questo è uno dei motivi Per cui noi lavoriamo A stretto contatto Da questo punto di vista Quindi La mia ipotesi iniziale Dell'improvvisazione E la mia paura Dell'improvvisazione È che proprio per questo motivo Una persona si butti All'impazzata Proprio Kawabonga style In una cosa Che magari Non riesce a fare E nessuno riesce a fargliela Esatto Kawabonga style Mentre dovrebbe essere E quella è la soluzione Che spero portino Tutti i professionisti I nostri colleghi Portare conoscenza Portare educazione In questo periodo E non dico fare I carbonari del movimento Visto che siamo Un momento in cui Poi avremo Il coprifuoco Però portare Un messaggio Positivo Ragazzi Naif Pandemia Cardona Però sulla pandemia Pecunia Qua siamo Sto studiando Il lockdown Quindi per rispondere A domanda Puoi fare tantissime Altre cose E sicuramente Avrai dei benefici Anche indiretti Sul tuo allenamento Specifico Certo Chiaramente Susi la mette Un po' Sul personale Dicendo Che avere una cosa Che gli piace Davvero fare Farla con amore È un po' diverso A metterti lì E allenarti Da sola a casa E lì c'è tutta L'importanza Sociale Anche se Un periodo di distanziamento Sociale Fa strano dirlo Però Di abbassamento Dello stress E di tutto quello Che ne consegue Dello sport Dove davvero A questo punto Sarebbero più importanti Gli sport Praticati amatorialmente Rispetto a quelli che Che hai fatto per lavoro Certo Quindi C'è davvero Un discorso sport Salute Che sono su due Binari Non ho Perché non sono paralleli Però possono essere Su due piani diversi Ma l'importanza Che hanno in realtà Entrambi Sì 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 E Vabbè Insomma Comunque Se ne avete bisogno Diciamo che sta Scusa Anic Sta alla nostra categoria Trovare soluzioni alternative Perché purtroppo Non possiamo fare altrimenti Non resiste nemmeno Un sindacato dello sport Che vada a battagliare Per i diritti di tutti Anche perché Purtroppo O per fortuna Sport vuol dire Tanto E tante cose diverse Quindi l'unica cosa Che secondo me Possiamo fare noi È trovare alcune soluzioni alternative E venire incontro O spiegare Educare Insomma le persone Che hanno bisogno Quindi È vero Sarebbe bello Che a tutti Piacesse muoversi Indipendentemente Dallo sport E questo sarebbe Una grande cosa Perché favorirebbe Tantissimo Il movimento Come salute In un movimento Del genere Chi ha informazioni Chi ha conoscenza È come se avesse Qualche arma in più Sarebbe una bella cosa Usarla tutti insieme L'idea L'idea di tirar fuori Sempre qualcosa di positivo Anche da momenti Che positivi Non sono Certo Positivi Sì Esatto Anche la persona Che positiva Soprattutto la persona Che positive Non sono E E Sì Giustamente Segnalano dalla chat Il discorso Che c'è un problema Legato al Semplicemente anche Le Le posture A Come vengono fatte le cose Al fatto che La gente si fa male A cazzo Perché la gente si allena A cazzo A casa C'è stato un fenomeno Che so che abbiamo andato Su tutte le furie Quello degli influencer Che facevano vedere I circuiti Nel periodo di marzo-aprile Penso alla Leotta Tutta sta gente H24 Esatto H24 Che facevano vedere Una marea di circuiti E la gente Che diceva Io no Ma mi alleno a casa Seguendo le storie Della Leotta Piuttosto che Chi vi pare a voi Però dico una cosa Politically Scorrect Sta gente qui Si allena a cazzo Anche palestra Nel senso Ah pensavo che Pensavo che le storie Della Leotta Vanno comunque bene L'hai rinunciata L'hai rinunciata No cioè Mediamente Quelle persone lì Sono persone Che tendono A non investire Sulla propria salute Sul proprio benessere E a fare cose a caso Anche poi Cioè c'è Mio cugino Che mi ha detto Di fare squat Al multi power Perché vabbè Cioè Quindi Si è vero Però Ora forse Ci viene più Sott'occhio Perché è tutto Più digitalizzato Tutto più online Però Mediamente Quelle sono persone Che lo fanno anche Qua di down lockdown Ok E c'è anche di più Eh Nick C'è anche di più Nel senso che Il nostro corpo In realtà è forte Quindi Prima di farti male Davvero Vuol dire Che ne è fatta Di roba che non va Cioè Teni conto Che non siamo Di cristallo Quindi prima di avere Un sovraccarico Delle strutture Serio Che ti fai male Vuol dire che O c'è un Qualcosa Che è fatto Dispericolato E allora ci può stare One shot E via Se no Esatto Se no Ce ne vuole Quindi Se uno si fa Nel mentino del cavolo Non è un grosso problema Però come dice Stefano Se l'abitudine Se il comportamento Di una persona Non è quello Di investire Non è quello Di investire Certo Sì ho capito E allora voi Insomma Cerchiamo di arrivare Anche un po' A un punto Cerchiamo di non essere Necessariamente Troppo negativi Abbiamo fatto All'incirca Un'oretta di chiacchierata Che io non so Se vi siete sentiti forzati Ma abbiamo fatto Abbastanza ruota libera Abbastanza come Come si farebbe Veramente E Cerchiamo di essere Un attimo positivi Perché comunque Abbiamo mandato Una serie di problematiche Che effettivamente ci sono E che è giusto Secondo me evidenziare Però Oltre a questo La cosa che vi chiedo A questo punto è Cosa consigliate di fare Qual è un percorso Che consigliate di fare Perché adesso Obiettivamente Da questo punto di vista Diciamo che Un po' per via scaramantica E un po' Per realismo Bisogna essere Purtroppo negativi Cioè Bisogna iniziare A mettersi in testa Che Probabilmente Sta storia Ce la porteremo avanti Per un po' Quindi chiaramente Ovviamente Sfruttare il momento Quando si potrà In qualche modo Andarsi ad allenare Questo penso che sia Il concetto primario Ma voi Cosa consigliate Come routine quotidiana E questo Chiedo principalmente A te Nico Che so che ci sei Abbastanza dentro Sul pezzo E come a livello Di allenamento Cosa fare Ecco sì Cosa fare Vai Nico Allora Io la vedo un po' Come te Nick Nel senso che ci porteremo Dietro questa Questa montagna russa Fondamentalmente Fra siamo dentro Siamo fuori Possiamo fare O non possiamo fare E questo è Potrebbe essere Non è Potrebbe essere Un grosso problema Per la continuità Delle persone Nel fare qualsiasi cosa Nel senso Nel trovarsi un hobby Piuttosto che Io cerco sempre Di trovare delle soluzioni Per cui secondo me Già un tipo di soluzione Prevedendo questo Farsi delle domande Su cosa E dove voler investire Le proprie energie Su quale attività E di prepararsi Al fatto che Quest'attività Potrebbe essere interrotta Ma interrotta Nel modo Quindi trovare Un modo alternativo Facciamo un esempio nostro Se io ho Delle persone O dei pazienti O dei clienti Che devono fare Un certo tipo di percorso Sarà mia premura E sarà il loro interesse Organizzarci Per far sì Che il lavoro Non si interrompa Nel momento in cui Non possono venire Perché le soluzioni Dal punto di vista Della fisioterapia Possono essere molte A me non piace Particolarmente Fare consulenze digitali Telefonate lunghe O altro Però se Questo è necessario Per continuare A stare bene Diciamo così O per continuare Un percorso Io credo Che si debba fare Tenendo conto Che Adesso ci sono Tanti strumenti Tecnologici Stamattina Non da ultimo Ti ho mandato Quella cosa Che ci avevi detto Tempo fa Che verrate Dimenticati Come al solito Esatto E praticamente Per l'HRV Quindi per la variabilità Di frequenza cardiaca È l'anello Un anello Che si tiene al dito Fondamentalmente E che misura Anche quando dorme Sì E tra l'altro È sponsor Dell'NBA Esatto Come si chiama? OAR Sì Se non mi ricordo male Adesso sto seguendo Un'altra roba VOOP Volevo quasi quasi provare Ma poi Tanto se ne parlo Costa un po' Sì Costa sui 300 euro Una cosa del genere Scusa Our Ring Cioè vabbè Dopo ti mando il link Sta molto di roba Porno No vabbè Io mi ricordo Quando avevo letto Che era interessante Perché rispetto al polso Prendeva la La misura In un punto diverso E infatti Se tu in realtà Poi leggi sui forum La gente dice Che non è così veritiero Perché il dito Si muove troppo di più Allora i dati sono Visto che siamo entrati Il discorso I dati non sono così Attendibili Come HR4 Fitness Una cosa del genere Che è Bastanza validato Scientificamente Come applicazione Però Sul medio e lungo termine Comunque La variabilità Di la frequenza cardiaca Va calcolata Sul medio e lungo termine Rimane comunque affidabile Il vantaggio Che lo fai anche di notte Senza doverti svegliare La mattina Non poter fare niente Prendere L'applicazione E farla partire Fondamentalmente Il grosso vantaggio In realtà è quello Però è vero Che la motilità Delle mani È molto molto più E per chiudere E per chiudere il discorso Dicevo Farsi trovare sempre pronti Fondamentalmente Così uno non si deve mai preparare Perché se no Si è sempre in ritardo E visto che questa cosa Questa oscillazione Sarà purtroppo Nostra compagna Per un po' di tempo Ci sono adesso I mezzi tecnologici Le competenze Per fare un lavoro Che sia Anche un po' diverso Dal solito Anziché Prendersi dal panico Anziché Farsi prendere dal panico Che non fare niente Sapere queste cose Ci può permettere Magari di spaziare Fare uno sport specifico Nel momento in cui Posso andare in struttura Piuttosto che farmi seguire Da un trainer A distanza Con delle schede O magari fare una cosa Fare dell'educazione Nel momento in cui Io so che posso andare Di persona da un trainer Così questa mi rimane E servono delle piccole indicazioni E non più un programma Tra zero Ok Io mi collego Sulla parola chiave Educazione Secondo me Perché vabbè Il consiglio Che io ho dato A tutte le persone Che sono rivolte a me È stato banalissimo Cioè è stato D'avvero ragazzi Non fermatevi Ora come ora Non fermatevi Soprattutto per chi mai È stato fermo Dei mesi In quarantena Vuoi per pigrizia Vuoi perché invece Era partito fortissimo E poi è andato Pianoteno scemando E dopo il consiglio Non fermatevi Poi quello che proponiamo Alla fine Secondo me Quasi più educazione Che cioè Io non voglio fare A una persona Cinque private a settimana Perché per carità Ci guadagnerei di più Ma ora come ora In una situazione del genere Storica del genere Preferisco fare Poche private Dove però Lo educo al movimento Io sono sicuro Che per quella programmazione Che gli do Nensile Questa persona Non si fa male E ottiene dei risultati Poi chiaramente Le persone che seguono A più tempo Per loro È tutto più facile E per il discorso Che dicevo prima Di tirare comunque fuori Del positivo Da situazioni che positive Non sono Cioè io ho visto Dei cambiamenti fisici Fatti in quarantena Perché le persone Materialmente avevano Più tempo da dedicare Alla loro salute Quindi al movimento Andavano a mangiare fuori Non andavano a ubriacarsi Fuori il weekend Io ho visto i cambiamenti fisici Che non riuscivano Ad ottenere Nel periodo precedente Quindi Io sono di questa idea qua Cioè sempre Di tirare fuori Il meglio possibile Ok Che è sicuramente Un messaggio positivo Tre Consigli Da dare Ai ragazzi Che ci stanno seguendo Di quotidianità Proprio cose concrete Non cercate I manubri Su Decathlon Non ci sono Ecco perché non li trovavo oggi Hanno finito tutto Hanno finito tutto Devo fare Devo fare I principiti Con le casse d'acqua Prendi la ele Usi la ele Esatto 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 No vabbè dai C'è questa Ok Cambiare la tipologia di sedia Vero Nico Spesso Allora a me piacerebbe Sì più che cambiare la tipologia di sedia Imparare Che non esiste Solo la sedia per sedersi Nell'attività Online che farò io Ci saranno anche Degli speech Dove Farò qualche approfondimento Uno è sulle posizioni sedute Dell'essere umano Che sono tantissime Tantissime E non prevedono la sedia Perché fondamentalmente È un'invenzione Recente E quindi Direi che ci Possono essere tante cose Sicuramente c'è il discorso Di rimanere idratati Di non esagerare Cioè di non prenderla Come una lunga vacanza E dove si va Orari Regolati a dormire Ci si sveglia Cioè Che Non è Non siamo nemmeno Nel precedente lockdown In realtà Quindi c'è ancora Un margine di lavoro Però sicuramente Mantenere buone abitudini In particolare Gli orari del sonno È fondamentale Il sonno Ad oggi È quello Che sta condizionando Maggiormente Le nostre fasi di recupero Siamo più o meno Allo stesso livello Della sedentarietà Quindi delle 8-9 ore seduti Non va mai sottovalutato Un buon sonno Per una persona Ok Citando Citando Maslow Che nel 52 È uno psicologo Umanista Una roba del genere Del 54 Fece questa piramide Non ho fatto il gesto fuori Se mi sta sotto Questa piramide Dei bisogni primari Insomma Dei bisogni dell'uomo E alla base Mise Ora vado a memoria Però c'era sicuramente Idratazione Vuoi l'alimentazione Quindi bere Se Il consiglio più Banale Che può essere dato Generale A due litri al giorno Poi tanto Comunque andrebbe Contestualizzato Alimentazione Quindi non sbaccare Come diceva Nico Non è che è una vacanza Dove Vabbè Tre sere Puglio la pizza Puglio l'hamburger E faccio arrivare La roba a casa Tanto arriva Sarebbe carino Fare anche una live Con magari La Sara e Igor Pensavo Ebbè Tra l'altro Allora hanno un progetto Ganso Che vogliamo sponsorizzare Noi come tutti i pro Che alla fine È Nico Che ha creato Il gruppo Con noi quattro Smart food Quindi No no Quello Sicuramente sarebbe carino Dicevo Quelle due lì Movimento Quindi muoversi Il riposo Come diceva Nico Quindi qualità di riposo E qualità sta anche Non dormo otto ore Ma le dormo Dalle quattro di notte Alle due del pomeriggio E Ragazzi Attività sessuale Era la quinta cosa Della piramide Quindi Una buona attività sessuale Aiuta Aiuta il semi-tari Aiuta l'endorfine Tutto Tutto E La ELE sta facendo un sacco Di battute Legate al fatto che Gli hanno detto implicitamente Anche adesso Di bere Anche se in realtà Lei non era il centro Della questione Però i discorsi Che avete fatto Raggiungono il fatto Che lei non beve E' un problema E' un problema principale No è incredibile Gli ultimi 8 professionisti Che si occupano di salute Gli hanno detto Che deve bere Ma qualsiasi cosa Li visitassero E io gli ho detto Secondo me Secondo me Gli ho detto Secondo me Se io ti faccio fare La valutazione da ste Per farti fare La scheda in palestra Ti dice che bevi poco E me ne vedi Vedi che alla fine Io non so se è di quelle Perché io trovo Una maria di persone Che non è Si nascondono Però diciamo Si nascondono Dietro al fatto Ma non ho sete Non c'entra Non c'entra Il corpo è anni Che non gliela stai mandando Non ti manda più Lo stimolo della sete Funzioniamo a Lusitor lusitor Lusio lo perdi E lui dice È inutile Che gli mandi lo stimolo Tanto l'acqua non arriva Quindi Non vuol dire Che se non ha sete Non ha bisogno di bere Sì E tra l'altro Vabbè A me è diventato Ormai Anche quasi un gesto Cioè Non so cosa fare Prendo la bottiglia È una buona abitudine Meglio quella Che la sigaretta Esatto Sicuramente Meglio quella Che la sigaretta Allora Vi dico Un piccolo spoiler Di una cosa Che non sappiamo Se verrà fatta Prima di salutarvi Così vi lascio fare Le vostre cose E io cerco gente Per giocare C'è una possibilità Che si potrebbe palesare Nico Gli ho già incennato L'altro giorno Oggi Che mi si è palesata oggi In realtà Ed è la possibilità Di fare Una Una chiacchierata Con Un fisiotrapista Dell'Olimpia Milano Ah Come si chiama? Non me lo ricordo Comunque fisiotrapista Non è quindi Giustino Danesi No È Monzoni Forse Penso si chiami Monzoni E Cerchiamoci un tema Perché secondo me Specie in un periodo Come questo Può essere Può saltar fuori Qualcosa di Di carino Magari Anche sulla prevenzione Dell'infortunio Potremmo Potremmo fare Ecco Ora che la dico Mi piace Potremmo fare una live Dedicata Agli sportivi amatoriali Quindi A tutti A tutte quelle categorie Di cui abbiamo appena parlato Cioè quelli Che sono rimasti fregati Quindi la prevenzione Degli infortuni Come rimanere allenati Come Che sarebbe Che potrebbe essere Una grande fregatura Per gli sportivi amatoriali O quelli semi pro Come li chiamo io Che salgono da pro Ma non riposano come pro Che fatta quarantena Tornano e si rompono Bello Mi piace Potremmo tirarla fuori Che si rompono Si esatto Si bello che si rompono Solo se non ce li ho io Al fantacalcio Vabbè ma Sto andando come un missile Cioè a parte Sfiga Vabbè Quindi Allora Se io ho poi Il via libera Da questo ragazzo Facciamo questa live qua Io vi direi Se vi va Sentite Igor e la Sara Visto che comunque È una speech Con dei tempi Abbastanza radiofonici Però una cosa Abbastanza colloquiale Che poi volendo Possiamo ritagliare Portare su Youtube Farvela dare Per i canali Anche questa Se poi vi è piaciuta Io posso Esportarla Ritagliarla E passarvela E potete farne ciò che volete E Facciamola Dai Anche con Anche con loro due Magari io gli mando La nota vocale Io alla Sara Ti dico la Sara È incasinata Che fa le 4 di notte A fare le diete Quindi Magari Non so La registri La registri Alle 5 del mattino E poi la mandi Tipo live Esatto Allora Voi dovete sapere Sta cosa sulla Sara La Sara mi ha scritto Due giorni fa Per un consiglio Sul computer Perché c'è il computer Quello dove c'è la macchina Il software della BIA Che è un po' Andante Mi ha scritto Ma come gli pare Mi ha scritto Per un pc da comprare E Gli ho risposto Con la nota audio Da 3 minuti Per spiegargli Tutte le varianti Possibili Non è ancora Neanche visualizzata La nota audio Infatti Ora Sfrutterò l'occasione Per dirgli Guarda ti faccio il riassunto E senti quello E senti quello che ti devo dire Se vieni in live Con noi Esatto 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 Allora Vi saluto ragazzi Ricordo sempre a tutti Vabbè chiaramente Le vostre pagine facebook E poi Un messaggio Che sto mandando In tutte le live Cerchiamo Di sostenere Le imprese locali Specie In un periodo Come questo Quindi Anzi che andarvi A cercare Il fisioterapista Che ha fatto Una foto Insieme a Cristiano Ronaldo Che vi vende Le robe online Andatevene a fanculo E sentite Nico E se volete Persona trainer Sentite stay Quindi Sosteniamo le realtà locali Che sono quelle che Rimangono un pochino Più fregate Va bene Ragazzi Grazie a voi Grazie a tutti Ve la ritaglio Ve la mando Ciao ciao Grande Ciao ragazzi Allora 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 Siamo rimasti soli Siamo rimasti soli Ma ancora per poco Ci spostiamo qua Figo eh Figo Cosa ne pensate Vi siete divertiti Eeeh Spostiamo